Non è solo un saggio, è un romanzo saggio. Otto secondi è il titolo provocatorio perché la nostra soglia di attenzione da dieci anni a questa parte si sta abbassando sempre di più. Attraverso lo smartphone, quindi attraverso questo continuo andare su questi apparecchi, noi disimpariamo a pensare in modo complesso. Durante la lettura profonda non è che il nostro cervello si limita a registrare le informazioni e a stamparla da qualche parte, mette in moto continuamente e attiva dei network tra quello che noi pensiamo e quello che leggiamo e tutto questo accende delle aree che poi fanno sì che quando noi abbiamo letto sprofondiamo dentro a qualcosa, in cui siamo veramente tutti dentro a quella cosa, cosa che noi non facciamo più. Grazie a tutti.